E' già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua, ci vuole abilità, e' già, il freddo quando arriva, poi va via, il tempo di inventarsi, un'altra diavoleria, e' già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua, e non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare, col cuore che basta e' più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala, con l'anima che si pende, metà e metà, con l'aria e col sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio e l'amore, in quattro pelone, io sono ancora qua, e' già, e' già. Io sono un fan della Star Therapy, perché penso che sia una cosa molto importante, portare ai bambini un po' di distrazione, un momento di relax, insomma. Per poco vedrai tanti bambini, non e' bello passare questo periodo dell'anno in ospedale, soprattutto il periodo di Natale, soprattutto per i bimbi, hai già pensato cosa dirai? Ah niente, cercherò di dargli, gli darò un bacio a tutti, un bacio a ognuno. E' anche un abbraccio grande anche ai genitori che stanno ammattando, i ragazzi che non probabilmente erano altre questioni. Certo, certo, infatti la sofferenza e' la cosa piu' terribile, insomma, che c'è, i problemi delle malattie, insomma, quando non c'è la salute si capiscono un sacco di cose, quindi essere in difficoltà, soprattutto quando c'è così giovani, insomma, e' una cosa abbastanza, non lo so, dei combattenti, quindi io vengo a fargli un po' di coraggio e a dire, andra tutto bene. E' il cuore rotto, per esempio, di portare sempre vicino a te. Certo, certo, per me comunque e' una grande emozione, perchè provo sempre una sensazione, mi ritengo molto fortunato, ecco, ogni volta che passo in questi posti vedo la realtà della sofferenza e della malattia. C'è tanti anni che non ci dà il cuore, come si è convinto, come si è convinto, come si è convinto? Guarda, sono 25 anni, è incredibile. Ah, niente, il suo entusiasmo e la sua idea, perchè in effetti l'idea di essere, di portare, insomma, gioia dentro a un ospedale, e' un'idea geniale. Io che ci sono passato, tra l'altro lo so, lo so bene anche. Ormai sei il primario. Sì, il primario del sorriso, il primario di tutti. Io sono veramente felice perchè abbiamo iniziato nel 95 insieme, eravamo ragazzi tutti e due, e poi ogni anno è proseguita questa gioia, questo dottore speciale a portare energia positiva, e siamo andati sempre al massimo. Quindi speriamo di continuare ancora altri 25 anni insieme. Ma invece nella quantità d'anno potrebbe essere... Seguiamo di continuare altri 25 anni insieme. Noi siamo ancora qua, però. Noi siamo ancora qua. Quindi ragazzi, io vi ringrazio veramente di cuore, voglio ringraziarti Vasco, come sempre, perché sei una persona super speciale, e quindi viva Bologna, viva Vasco, viva lo staff e viva Tania Sachs. La mia cara amica di sempre, lo staff tutti. Eh già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia, e allora che si fa? Eh già, riprenditi la vita che vuoi tu, io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più giù, più giù, più giù. più su, più giù, più giù, più giù. più su, più giù, più giù, più giù. Con il cuore che basta è più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende all'ambaricolia Poi piango, poi rido, poi non mi decido Cosa succederà col cuore che batte più forte La lotta sta a passare, al diavolo non si vende Io sono ancora qua Eh già, eh già Io sono ancora qua Eh già, eh già Io sono ancora qua Io sono ancora qua Eh già, eh già